Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento con il Tg6. In apertura il capitolo sanità presentata questa mattina all'Aquila il riordino della rete ospedaliera abruzzese. Il documento che prevede tra le tante cose i nuovi posti letto è stato approvato dall'Aggiunta. Prossimo passo l'approvazione preventiva dei ministeri competenti e poi quella definitiva del Consiglio regionale. Vediamo. L'Aggiunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Veri ha approvato la proposta di legge sulla reingegnerizzazione della rete ospedaliera abruzzese con l'obiettivo di migliorare e potenziare la funzionalità del sistema. Il provvedimento che ora sarà inviato ai ministeri affiancanti per l'approvazione preventiva verrà successivamente trasmesso al Consiglio regionale per l'esame l'approvazione definitiva. Nel rispetto del tetto massimo consentito dagli standard è stata poi definita la dotazione aggiornata di posti letto per un totale di 4.912 tra pubblico e privato di cui 4.015 per acuti, 624 per la riabilitazione e 273 di lungo degenza. L'organizzazione ospedaliera invece prevede la programmazione di 220 unità operative complesse di 287 unità operative semplici e dipartimentali, sempre nel rispetto degli standard di legge. Abbiamo presentato la reingegnerizzazione della rete ospedaliera della nostra regione che porta un aumento di posti letto sia nella forma acuta ma anche nella forma cronica in modo particolare anche per la lungo degenza. Nonostante questo aumento abbiamo anche valutato bene quelli che sono i parametri del DM70 dove abbiamo dato un valutazione diversa è stato ampiamente motivato così come la possibilità di tenere aperto il punto nascita di Sulmona e far diventare Sulmona ospedale di base oppure altri presidi ospedalieri che devono tenere aperto il pronto soccorso H24, quindi il tutto è ben documentato sia riguardo al discorso tempo spaziale, quindi penso che da parte del Ministero ci sarà senz'altro un'osservazione in maniera positiva. La programmazione regionale prevede la seguente classificazione dei presidi, quattro ospedali con funzioni di idea di secondo livello per le reti tempo dipendenti, l'Aquila e Pescara per la rete Stroke e per la rete Poli Trauma Trauma Maggiore, Chieti e Teramo per la rete emergenze cardiologiche estese, quattro ospedali di primo livello Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, sei ospedali di base Ortona, Popoli, Penne e Atri, Giulianova e Santomero, due presidi di area disagiata, sede di pronto soccorso, Castel di Sangro e Atessa. Nella nuova programmazione regionale sono state inserite modifiche anche per i presidi di Tagliacozzo, Pescina e Guardia Grele. A Tagliacozzo sono previsti 52 posti letto di riabilitazione per il recupero delle capacità motorie e per la riabilitazione cardiologica e polmonare. A Pescina vengono programmati 20 posti letto di lungo degenza a supporto dell'ospedale di Avezzano, così da far fronte al sovraffollamento dei ricoveri di pazienti con cronicità, oltre a due moduli, ognuno di 15 posti letto, per l'ospedale di comunità. Guardia Grele infine diventa Polo del Policlinico di Chieti con 10 posti letto per le acuzie, di cui 5 in medicina e 5 in geriatria, e 8 posti letto per la lungo degenza, oltre a un servizio di psichiatria. Nella programmazione inoltre sono previste le emodinamiche a Vasto ed Avezzano, mentre viene mantenuto aperto in deroga il punto nascita di Sulmona. Abbiamo invece finalmente una stagione di rilancio della sanità pubblica, della sanità nel suo complesso, ed è importante perché erano almeno un decennio che questa rete non veniva toccata e nessuno aveva avuto la forza o il coraggio di farlo, anche di affrontare le inevitabili discussioni sui territori, ma credo che abbiamo prodotto un documento importante, equilibrato e spero che la maggioranza e il Consiglio possano presto approvarlo e farlo diventare legge. Ed ora il consueto aggiornamento della pandemia nella nostra regione. Sono 45 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2306 tamponi molecolari e risultato positivo l'1,95% dei campioni. La variazione percentuale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente è pari al 27%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti continua a salire ed arriva a 20,54, valore più alto dall'inizio di giugno ad oggi. Scendono però i ricoveri che passano dai 23 di ieri a 21 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto è pari all'1% per le terapie intensive e al 2% per l'area non critica. I nuovi casi hanno età compresa tra i 4 e i 90 anni. La località con più contagi recenti è Pescara con 10 nuovi casi. I guariti delle ultime ore sono 21, non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 2.513. E noi cambiamo argomento, siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara sequestra mezzo chilo di cocaina. Nel corso di un'operazione di controllo a Città Sant'Angelo, la Guardia di Finanza ha sequestrato mezzo chilo di cocaina rinvenuta all'interno di una vettura in carcere. Il corriere di origine albanese, Andrea Costantini. La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato mezzo chilo di cocaina e ha arrestato un corriere albanese di 46 anni. Nel corso dell'abituale attività di controllo, una pattuglia delle fiamme gialle ha fermato a Città Sant'Angelo, nei pressi di un noto distributore di carburante. Una Ford Focus guidata appunto dal cittadino albanese, il cui evidente stato di agitazione, ha spinto i baschi verdi ad approfondire il controllo con l'ausilio di una unita cinofila che, intervenuta sul posto, ha segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente sotto il vano cruscotto anteriore del lato passeggero. Una volta smontato all'interno del cruscotto è stato rinvenuto un involucro di cellofan sotto vuoto ricoperto di un palloncino in gomma contenente circa mezzo chilo di cocaina, un confezionamento ad arte appositamente realizzato a fine di sfuggire al fiuto dei cani antidroga, che però non è servito a ingannare il super addestrato pastore tedesco Daphne. L'insospettabile corriere albanese, privo di precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato portato in caserma per gli ulteriori approfondimenti del caso. Avvisato il PM di turno, il corriere è stato tratto in arresto in carcere per il reato di traffico e spaccio di stupefacenti. Abbiamo ancora argomento, ottimi risultati dell'Arta sulla qualità del mare pescarese, dove tutti i tratti sono a oro baleabili. Tanti turisti in città che dopo il fine settimana di maltempo sono tornati ad affollare le spiagge. Noi ne abbiamo conosciuti alcuni. Vediamo il servizio di Giuseppe Vintino. Il mare di Pescara è pulito. Dopo la storica bandiera blu al capoluogo adriatico, i dati dell'Arta confermano la qualità delle acque. Dai prelievi effettuati il 12 e 13 di luglio è emerso che gli inquinanti sono notevolmente diminuiti, forse anche a causa dello stop alle attività produttive durante il lockdown. Tutta la costa pescarese è ora balneabile, esulta il sindaco Masci. Il mare è pulito, abbiamo avuto la conferma dall'Arta, i dati sono ottimi, tutti i 10 km di costa sono puliti, quindi affrontiamo la stagione estiva nel migliore dei modi. So anche che tutti gli stabilimenti balnerari non hanno un ombrellone o una palma da affittare, i locali sono tutti pieni, quindi di questo ovviamente ci fa molto piacere. Pescara è una città bella, che si presenta benissimo e anche sotto l'aspetto della pulizia è una città che non si fa mancare nulla. Pescara è bella e i turisti che vengono ci ringraziano per questa città che ha 10 km di spiaggia, un bellissimo mare, dei bellissimi negozi, tant'è che siamo pieni e continueremo ad esserlo per tutta l'estate. Dopo il weekend di maltempo il sole ha riportato i bagnanti in spiaggia, il mare quest'anno fa contenti tutti, pescaresi e turisti. Lei di dov'è? Sono di Spoleto. E come mai in vacanza qui? Perché qui sappiamo benissimo che si mangia bene, il bimbo si diverte tanto perché le spiagge sono attrezzate, il mare normalmente è pulitissimo. Normalmente, in questi giorni come l'ha trovata? In questi giorni noi siamo arrivati venerdì ma abbiamo preso solo pioggia, ma confidiamo e sappiamo benissimo che sarà trasparente il mare, come ogni anno, d'altronde sono 5 anni che veniamo. E voi di dove siete? Di Pescara. E quest'anno abbiamo ottenuto la bandiera blu, è soddisfatta? Soddisfattissima. Ma si vede che ne pensa del mare quest'anno? Pulito, noi veniamo dal 14 giugno, sempre pulito, bello. Lei da dove viene? Sono di Umbria, Brasili. Quindi brasiliana ma vive in Umbria da un po' di anni? Sì, sì, un po' di anni. E ora, come mai in vacanza a Pescara? È un mare bello, il turismo bello, ben pulito, a città mi è piaciuto tantissimo. Voi da dove venite? Allora, io vengo da Formia e sono napoletana. Io Gaeta. Stavo cercando la famosa pineta che mi hanno detto che quasi non ci esiste più perché è stato un po' inglobato dai palazzi. Il mare come aveva sembrato? Per quello che stiamo vedendo ora è bellissimo, i colori sono differenti perché questo è l'Adriatico, noi veniamo dal Tirreno. Stavo pure poca gente, non è come gli altri anni era di più da quando si è stato fatto qua. Ammonta a oltre 2 milioni di euro l'utile di esercizio del bilancio 2020 della Ruzzo Reti SPA. Il documento è stato approvato con l'unanimità dei sindaci presenti in assemblea. Vediamo. L'assemblea dei soci ha approvato ieri pomeriggio il bilancio 2020 della Ruzzo Reti SPA con l'unanimità dei sindaci presenti, 28 sui 36 comuni afferenti, la società acquedottistica. Erano assenti i primi cittadini di Teramo, Montori Albomano, Mosciano Sant'Angelo, Rosetto degli Abruzzi, Castelli, Bellante, Torano Nuovo e Ancarano. Ruzzo Reti SPA ha chiuso il 2020 con un utile di esercizio di oltre 2 milioni di euro e con un margine operativo lordo superiore a quello riportato nel piano industriale 2019-2021. L'attività dell'ufficio recupero crediti, istituito proprio nel 2020, ha incassato un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. La società acquedottistica inoltre ha concesso ai cittadini che ne hanno fatto richiesta oltre 4 mila piani di rateizzazione. Il management della Ruzzo Reti sottolinea anche il lavoro fatto sui costi e non mancano polemiche verso i sindaci assenti. Devo dire che è un bilancio che vede dei costi abbassarsi in maniera netta, i costi del personale di circa 600 mila euro, i costi dei debiti si sono abbassati di 5 milioni di euro. E questa è un'ottima notizia per la provincia perché a lungo andare stabilizzando un abbassamento dei costi si avrà anche un abbassamento della tariffa. Rimane un po' di perplessità rispetto a una serie di polemiche che abbiamo sentito nei giorni precedenti, come ogni anno devo dire, a cui però non è stato dato seguito nell'assemblea che forse è il consesso dove i sindaci dovrebbero esprimere per i loro territori la loro posizione. Noi continueremo con questa operazione di risanamento dell'azienda di cui siamo veramente molto soddisfatti. Oggi sono particolarmente felice perché continua l'opera di risanamento, di grandi investimenti per il ruzzo e soprattutto perché il bilancio di oggi aumenta ancora di consensi rispetto agli anni precedenti. Questo è veramente da grande soddisfazione perché significa che è quello che ribadiscono i sindaci e che stiamo lavorando bene e che soprattutto loro sono con noi in questa grande opera di rivoluzione dell'acquedotto terramano. Come dare un voto contrario su una buona governance sia a livello finanziario che sia a livello di gestione? La cosa che mi sconcerta è che quello che oggi una piccola minoranza di sindaci chiede di vederci chiaro, io mi chiedo dove stavano quando fino al 2012-13 si producevano 100 milioni di Euro di debiti. Ecco oggi la società sta un po' meglio, non sta bene, sta ancora in uno stato comatoso, ma in questo stato comatoso una buona governance sta cercando di riportare su un percorso sano una società che era decotta 5, 6, 7 anni fa. Al via nelle scorse ore a Teramo i lavori per l'installazione delle prime colonnine elettriche in città si parte da via Pannella ma le postazioni via via aumenteranno come ha confermato l'assessore Maurizio Verna. Vediamo. Assessore, finalmente anche a Teramo si iniziano i lavori per le prime colonnine elettriche. I lavori sono partiti ieri come alle nostre spalle su via Pannella ma per altri 5 posti quindi pensiamo che le prime settimane di settembre possano essere già utilizzate perché poi questa è una prima fase, poi anche ci sarà il collegamento diretto con l'energia elettrica fatta direttamente da Enel. Questi sono di Bicerge che è la prima società che ha fatto una convenzione con noi per installare 8 postazioni, ne facciamo 6 subito, le altre 2 che riguardano Piazza Garibaldi e zona Teatro Romano, essendo zone vincolate hanno bisogno del parere della sua intendenza. A queste si collegheranno immediatamente dopo altre 12 postazioni di Enel X che vanno a prendere quasi tutta la città ma anche San Nicolò con l'atterrato, insomma anche alcune aree un po' più esterne. Questo per dotare un'infrastruttura ormai fondamentale perché sappiamo che l'utilizzo dell'auto elettrica è sempre più attivo e sappiamo anche che ormai si va verso una limitazione totale delle auto a diesel e a benzina. Quindi da qui ai prossimi anni speriamo che venga sempre più utilizzato ma speriamo che questo poi si aggiunga a questa importante iniziativa dell'eco bonus fatta per i privati che permetterà a tutti i cittadini di potersi dotare di una wall box su ogni abitazione per poter ricaricare direttamente la propria auto. Sono dei lavori che iniziano qui in via Pannella su cui però c'è anche una riflessione in atto, adesso c'è un senso unico, state valutando di tornare a un doppio senso di marcia? Sì, quello che è stata sempre una sperimentazione, questo senso unico, abbiamo visto che purtroppo il parcheggio posto sul lato est di questa via non è altro che una fonte di parcheggio selvaggio, purtroppo ancora. La presenza costante di un vigile urbano sappiamo non è possibile, anche adesso vediamo dei furgoni messi un po' come capitano, spesso il passaggio dell'autobus su questa via è segnato da blocchi e da ritardi che poi sono collegati all'università. Ma c'è una situazione irregolare che purtroppo dobbiamo sistemare e stiamo ragionando se farlo tornare a doppio senso, ovviamente con una caratterizzazione precisa, puntuale e definita di dove si può parcheggiare o meno, questo per evitare appunto la sosta selvaggia. Oggi andrà via da Pescara l'installazione Trash People di Harschult. L'amministrazione comunale intende continuare a promuovere iniziative che sensibilizzano sulla salvaguardia dell'ambiente. Vediamo. Entro il 2023 a Pescara non ci saranno più i cassonetti dei rifiuti, questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che nel giro di due anni intende ampliare la raccolta porta a porta e realizzare nuove isole ecologiche. E su questo stiamo lavorando assiduamente, lo avrete anche già visto, per arrivare intanto alla percentuale di legge consentita sul rifiuto che è quella del 65%, che ci auguriamo di poter raggiungere nell'arco di un paio d'anni, comunque entro il 2023. Ma in parallelo l'eliminazione di tutti i cassoni stradali, consentendo così con isole ecologiche e con porta a porta spinti una raccolta differenziata, puntuale e controllata. Oggi intanto l'esercito di immondizia lascia Pescara. L'opera Trash People dell'artista tedesco Aschult era stata installata nel cuore del capoluogo adriatico dopo aver fatto tappa nei luoghi più suggestivi del mondo. Un'occasione per riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente, tema a cui il comune intende avvicinare i più giovani andando nelle scuole a settembre con l'Eco School. Pescara punta sul riciclo, ha detto l'assessore del Trecco. Perché stiamo lavorando su un impianto anaerobico, che poi è il principale rifiuto tra i rifiuti differenziati, che potrà consentire di avere sia del compost ma anche del biogas. Quindi un biodigestore di ultima generazione a tutti gli effetti, come degli impianti che sono praticamente quasi pronti per quanto riguarda il multimateriale, plastica, metalli ed altro nella zona di Alanno e di Loreto. Su questo si sta abbinando anche una seconda ricicleria, perché chiaramente una volta preso il rifiuto ci deve essere anche il posto dove fermarlo e dove anche i cittadini possono andare a portare il proprio rifiuto, per poi andare direttamente agli impianti. Quindi noi ci auguriamo che in questo modo i cittadini comincino a pensare in maniera diversa. Noi chiediamo non solo un rifiuto ridotto, ma chiediamo anche un decoro della città. E su questo stiamo lavorando assiduamente, lo avrete anche già visto, per arrivare intanto alla percentuale di legge consentita sul rifiuto, che è quella del 65%. Che ci auguriamo di poter raggiungere nell'arco di un paio d'anni, comunque entro il 2023, ma in parallelo l'eliminazione di tutti i cassoni stradali, consentendo così con isole ecologiche e con porta a porta spinti, una raccolta differenziata, puntuale e controllata. L'Assemblea dei soci della Corale Giuseppe Verdi di Terramo ha eletto Agostino Ballone, presidente. Per l'ex numero uno della Confindustria ha un ruolo di prestigio per rilanciare l'attività nel periodo post-pandemico. Vediamo. La Corale Verdi è un presidio di assoluto valore per la nostra città e credo per l'Abruzzo intero. Sicuramente dovrà essere rilanciata nella propria attività. L'incognita pandemica ovviamente vale per la Corale, ma vale per tutte le altre attività economiche del nostro territorio. Ci auguriamo di essere, come dire, in dirittura di arrivo sul finale di questa pandemia. Per il resto ci metteremo tutto l'impegno necessario perché la Corale possa ripartire con slancio. Devo ringraziare tutti i soci della Corale che ieri hanno manifestato in maniera massiccia la loro adesione e il loro voto nei miei confronti. Certamente conoscevo la Corale Verdi, essendo cittadino terramano, quindi è un'istituzione importante per la città, la conoscevo. Non conoscevo ovviamente gli aspetti tecnici interni e quindi sono qui anche per approfondire e per quanto mi riguarda rilanciare l'operatività della Corale. Ho detto chiaramente che la mia attività di imprenditore non aveva grandi affinità con quello della Corale, ma ovviamente nell'approfondire la proposta abbiamo individuato che gli ambiti sono ben diversi, quelli di rappresentare la Corale da quella che compete invece negli aspetti tecnici, quindi al maestro. Nei prossimi giorni convocerò il Consiglio di Amministrazione e cominceremo a tracciare le linee guida dell'attività 2021 e il seguente. Apriamo ora la pagina dello sport, presentazione del nuovo direttore sportivo del Teramo Carlo Musa, l'ex Savoia. Arriva in bianco rosso mentre ci attessa per la sentenza che riguarda la Casertana, visto che Iachini ha confermato l'intenzione di mettere sotto contratto Federico Guidi per la panchina. Inoltre anche questioni di mercato che riguardano Cianci, Diachite e Santoro. Primo punto fermo della nuova stagione sportiva del Teramo presentato questa mattina qui nella sala stampa dello stadio Bonolis. Il nuovo direttore sportivo è Carlo Musa, ex Savoia ed Avellino, allo ha presentato il presidente Franco Iachini. Sicuramente mi affiancherà sulla parte tecnica della gestione tecnica, è quella figura che voi indicate come direttore sportivo, è stato uno dei più giovani direttori sportivi a Coverciano, a raggiungere questo titolo. Mi fa piacere aver scelto lui perché vuole segnare un percorso che detti l'indirizzo di quello che dovrà essere quest'anno una squadra, una squadra molto giovane. Per quanto riguarda invece la figura dell'allenatore, il termo ha già le idee chiare, ovvero Federico Guidi, attuale tecnico della Casertana, sotto contratto però con la società Campana fino al 2023. Società Campana che è oggetto di esclusione da parte della FIGC per una mancata presentazione corretta appunto della domanda di iscrizione con documenti mancanti. Il termo ha fatto la sua scelta, Guidi aspetta di sapere che cosa accadrà in casa Casertana il 26 luglio con la pronuncia del collegio di garanzia del CONI e poi dal 28 luglio potrà effettivamente essere l'allenatore del termo con tutto il suo staff, altrimenti il termo dovrà cercare un altro allenatore. Eh certo, se dovesse andare bene per la Casertana il problema è nostro, dobbiamo trovare un altro allenatore. Di certo non glielo sto augurando che lui non venga ripiescato, per l'amore di Dio, assolutamente. Anzi, no, io gli faccio gli auguri perché comunque una persona ci si sarebbe potuto trovare chiunque al suo posto, quindi non glielo auguro di certo questo problema. Si sono affrontati anche vari discorsi, vari argomenti. Il più importante è quello dei giocatori in uscita del Teramo di cui si sta occupando proprio il massimo dirigente Biancorosso, ovvero le trattative per Cianci, Diachite, Piacentini e Santoro. Le trattative le faccio direttamente io. Teramo vende se gli conviene vendere. Noi abbiamo oggi per esempio una trattativa su Pietro Cianci, molto importante, della trattativa che si avvicina di più è quella del Palermo, per quanto riguarda anche Santoro, adesso aggiungo, anche lui ha avuto diverse richieste e anche lui su una buona, si sta incanando un'ottima trattativa su un'altra squadra di serie B, Brescia. Quanto riguarda Diachite ci sono richieste da più parti, non nascondo anche quella che avete riportato sui giornali della Ternana, però anche lì Diachite è un prezzo molto pregiato, quindi Diachite credo che quest'anno possa continuare a formarsi nella nostra squadra. Il direttore sportivo Carlo Musa è arrivato appunto nelle scorse ore, sta già comunque iniziando a lavorare sulla Rosa, ricordiamoci sono già 15 giocatori sotto contratto per quanto riguarda appunto la squadra Biancorossa che si ritroveranno qui lunedì prossimo nel pomeriggio allo stadio Bonolis per iniziare le pratiche propedeutiche appunto al raduno e al ritiro precampionato, però si sta già guardando intorno il nuovo DS Biancorosso. C'è tanto da lavorare perché comunque sono una rosa che avendo in scadenza dei calciatori, quindi in questo momento c'è bisogno di inserire delle forze nuove, come ha detto il Presidente punteremo molto su un progetto giovane, ma non è che deve passare l'idea di un Teramo che va a smobilitare o a fare cose negative, perché comunque ci sono stati esempi di squadre giovani che hanno fatto dei grandi risultati. Ed ora le novità di mercato in casa Pescara, mentre circa il settore giovanile si separano le strade con due pilastri Giuseppe Geria e Antonio Di Battista. Vediamo. L'opera di ristrutturazione dello staff tecnico del Pescara investe anche il settore giovanile che perde i suoi due principali pilastri. Stamani l'annuncio dell'addio del responsabile Giuseppe Geria e del responsabile tecnico Antonio Di Battista La fine del rapporto di lavoro con Di Battista era nell'aria, anche se fa specie, perché al di là del ruolo apicale era una sorta di istituzione nel settore giovanile bianca-azzurro con il quale ha collaborato da una vita e che ha fatto crescere coltivando giovani talenti e allenatori di prospettiva, anche a livello di prima squadra. Per Di Battista però si apre subito una nuova opportunità professionale, poiché a breve si legherà con il Bologna. Più è sorpresa l'addio di Giuseppe Geria, per il quale era circolata anche l'ipotesi di direttore sportivo. Il presidente Sebastiani più volte nelle scorse settimane aveva dichiarato che voleva tenersi stretto Geria per il settore giovanile ed era pronto ad offrire il prolungamento del contratto, scaduto il 30 giugno. E invece dopo cinque anni le strade si separano. Purtroppo la retrocessione ha creato non pochi problemi a livello di settore giovanile, si spiega nella nota della società, facendo venire meno anche l'entusiasmo di chi giornalmente ha sempre lavorato per la crescita dei giovani. Anche se le strade si dividono, questo non sarà un addio ma un arrivederci. Il rapporto umano e professionale instaurato rimarrà nel tempo. Ho avuto piacere di lavorare con due persone straordinarie e soprattutto due grandi professionisti a cui auguro le migliori fortune. Queste le parole del presidente Sebastiani. La promozione della primavera, la seconda in tre stagioni e la vittoria della Supercoppa col Verona sono solo gli ultimi di tanti successi collezionati. Ora si apre la caccia al neoresponsabile del settore giovanile. Un nome forte sembra essere quello dell'ex DS Antonio Bocchetti, una sorta di soluzione interna. Circa la prima squadra continua a tenere banco il mercato. Il nome nuovo delle ultime ore è quello del 25enne possente centramanti argentino Franco Ferrari di proprietà del Napoli. Il giocatore è reduce dalla vittoria del Girone A col Como e tra le squadre del suo passato via il Piacenza dell'allora DS Luca Matteassi, ora al Pescara. Tanta serie C per Ferrari e anche il debutto in B con la maglia del Brescia nel 2018. Il Pescara sta cercando l'intesa con Napoli, col quale potrebbe portare a termine una doppia operazione. È già noto il forte interessamento per l'esterno Eugenio Dursi. Qualora i due calciatori indossassero la casacca del Pescara e allo stato ci sono ottime probabilità e in caso di permanenza di Galano Gaetano Oteri avrebbe il suo tridente, Dursi, Ferrari, Galano. Un trio che sulla carta ha tutto, potenza, estro, tecnica e soprattutto gol. Con questi innesti si procederà all'uscita di altri attaccanti. Su Bunino c'è la Provercelli, in lista di sbarco anche Borrelli e Belloni. E questo tridente sembra essere realtà perché aggiornamento dell'ultimo minuto. Franco Ferrari e Eugenio Dursi sono operazioni fatte domani. Entrambi i calciatori saranno a Palena e dunque a disposizione del tecnico Gaetano Oteri. Mentre Cristian Bunino ha lasciato il ritiro e sarà un nuovo giocatore della Provercelli. E noi andiamo avanti, adesso il volley, nella prossima stagione l'Altino Volley giocherà alle sue partite casalinghe del campionato di A2 al Palasport di Lanciano. L'annuncio ufficiale è stato fatto ieri in una conferenza stampa alla quale erano presenti il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, l'assessore allo sport Davide Caporale, il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli e il presidente dell'Altino Agnello Papa. Nel corso della conferenza stampa sono state ringraziate le società Uni Basket e Azzurra per la disponibilità data per far giocare le gare dell'Altino a Lanciano una volta ogni 15 giorni. Una scelta che valorizza la parte sportiva dell'intero con Prensori Frentano. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per averci scelto. Grazie per aver guardato il video.